Una giornata alla spiaggia, livello avanzato. È bel tempo e ci sono molte persone in spiaggia. Alcuni fanno il bagno a mare, altri giocano a pallone. Due ragazzi si sdraiano sulla sabbia per prendere il sole. Un bambino fa un castello di sabbia con i genitori. Una bambina nuota, arriva con il salvagente. Due ragazzi giocano a pallone in acqua. Un signore è seduto sulla sedia a sdraio. Luisa e Marco sono in cerca di un posto perché la spiaggia è molto affollata. Luisa e Marco hanno trovato un posto. Hanno l'asciugamano, gli zaini e indossano costumi da bagno e occhiali da sole. Stendono l'asciugamano sulla sabbia. Una bambina e un ragazzo si fanno il bagno. Luisa si sdraia sulla sabbia per prendere il sole. Marco entra in acqua per fare un bagno. Ha lasciato il suo zaino incustodito sulla spiaggia. Forse Luisa è distratta. Mentre Marco sta nuotando, un ladro afferra lo zaino e scappa via. Le persone a mare si accorgono del furto. Luisa chiede aiuto agli altri bagnanti. Altri giovani rincorrono il ladro e cercano di prenderlo. Luisa chiama i carabinieri che arrivano con la volante e fermano il ladro per arrestarlo. Un uomo in una macchina assiste a tutta la scena mentre fuma la sigaretta. Forse è il complice del ladro.